Chiunque si sia trovato a fare un gioco, comunque essere nella parte del prestigiatore, si è sentito dire dopo come hai fatto, me lo spieghi. Come ci si dovrebbe comportare la domanda mi spieghi un gioco? Un babbano che chiede mi spieghi un gioco? Beh, come tutte le domande esistenziali importanti, penso che non ci sia mai una risposta definitiva. Secondo me molto lo fa anche la situazione, no? Certo non sono della categoria che dice no, mai spiegare niente a nessuno, bla bla bla, lo sappiamo. Si ritorna un po' ai tutorial anche. In certe condizioni, secondo me, ovviamente non spieghi i giochi professionali, non spieghi quello che hai appena eseguito, perché altrimenti ti tireresti la zappa sui pizzeri. Però spiegare qualcosa di semplice, di easy, secondo me ha diversi benefici, questa è la mia opinione. Uno, risulti più simpatico alle persone, e questo è importante se stai lavorando. Due, anche lì c'è modo e modo, ma se insegni un gioco cercando di trasmettere anche dei concetti importanti, secondo me potresti anche, come posso dire, creare nuovi appassionati, che si appassionano alla prestigiazione come spettatori, come dilettanti, amanti della prestigiazione, e quindi avere anche poi del pubblico nuovo. Quindi non ci vedo niente di sbagliato in spiegare un gioco. Ripeto, molto base. Però io tendenzialmente, piuttosto che spiegare un gioco fino a se stesso, spiego, spiegavo, spiego magari un gioco semplice, che però mi permette un po' di far vedere il colore, la complessità dell'arte magica. E quindi il sottotesto è dare comunque valore all'arte magica. Quindi secondo me l'ideale potrebbe essere prendere un gioco che magari anche già tutti gli spettatori conoscono. Ce ne sono tre, quattro giochi che bene o male il pubblico conosce. O in termini di metodo, o in termini proprio di effetto. Se parliamo di metodi, uno dei giochi che molti conoscono è il One Ahead, che di solito è fatto, guardi l'ultima carta di nascosto e dice la persona tirami fuori il re di picche. Ah ok, bravo, intanto guardi questa. Adesso tirami fuori il tre di cuori. Ah perfetto, adesso io vado a tirar fuori il cinque di picche. Ok abbiamo detto tre di cuori, cinque di picche, re di picche. E poi non lo fanno mai così bene. No beh certo. Questo è uno di quelli più conosciuti. Un altro è il classico dei tre mazzetti, 21, 20, 27 carte. E forse quello più conosciuto in assoluto, che più si potrebbe avvicinare a un gioco di magia, anche quello One Ahead, no? È il classico di fai scegliere una carta, guardi quella prima e poi ti fa da chiave e ritrovi la carta scelta. Di solito io spiegavo questo, ma non fatto così. Tra l'altro questo è interessante, se l'avete mai spiegato, anche molto base, per farvi capire e riprendere un po' confidenza nel potere del trucco, del metodo e nella difficoltà che può avere uno spettatore a ricostruire il metodo. Perché molto spesso, se voi fate questo esperimento, provate a spiegare allo spettatore di guardare la carta prima, che quindi finisce di fianco a quella scelta e poi anche solo di aprirle e quindi lui è in grado di trovare la carta scelta, molti si confondono, cioè non sanno se è quella prima o quella dopo la chiave, per noi è ovvio. Quindi questo già fa capire che non è così facile, cioè anche cose banali possono diventare magiche. Però io lo spiegavo in tutt'altro modo, cioè lo spiegavo così e poi dicevo adesso voi cosa fa il prestigiatore? Prende questo concetto e grazie a mille strategie che non sto a spiegarvi lo rende qualcosa di più magico. In questo caso, per esempio, io potrei fare un gioco di questo tipo. Il metodo, sapete, è identico, ma guardate come cambia tutto. Quindi la versione base è, prendi una carta, guardala, ricordala, lo faccio male apposta, ricordala, mettila qui, ok. Quindi la tua carta era il set di fiori, giusto? Così bene o male come lo fanno tutti. È ovvio che è troppo trasparente, non c'è drama, non c'è niente. E non abbiamo lavorato sulle condizioni anche, no? Per condizioni intendo proprio le condizioni sotto le quali avviene l'esperimento. Cosa intendo per condizioni? Tipo, il mazzo non è stato mescolato, quindi potrebbero essere tutti in ordine dall'asso re. Poi stendendole così, no, ma se io l'avessi trovata così, il pensiero ci potrebbe essere. E mille di queste cose che Tamariz affronta nella via magica e via dicendo. Però creamoli delle condizioni più stringenti o apparentemente più stringenti, no? Quindi rendiamolo un metodo professionale. Quindi per esempio, se io ti dicessi, mescola le carte. Ok, ora ti faccio un classico. Tu sai che tutti i maghi ti fanno scegliere una carta, no? Però voglio farlo veramente in maniera molto stringente, condizioni stringenti. Quindi quello che ti chiedo di fare, da dove vuoi, tiri fuori una carta dal centro. Ok. Guardala, ricordala, falla vedere. Ok, mettila pure in cima. Quindi sei d'accordo con me? Che io non posso assolutamente sapere la carta. Una cosa però di quella carta la so. So esattamente dove si trova. Sì, sì. Quindi quello che ti chiedo di fare è tagliare e completare il taglio. Ok. Se vuoi taglia ancora e se vuoi taglia l'ultima volta. Ora, sei d'accordo con me? Siete d'accordo che non posso sapere né la carta né dove si trova. Questo è importante, giusto? Altra cosa importante. In virtù di questo, anche se io stendessi le carte e le passassi tutte una per una per cercare di capire qual è la tua carta, è impossibile. Perché non ho nessun riferimento. Quindi non posso seguire questa linea per trovare la tua carta. L'unica cosa che posso fare è cercare di leggerti nella mente. Quindi, concentrati sulla carta. Era una carta rossa. Sì. Una carta di quadri. Esatto. Abbastanza alta. Sì. Pari di valore. Era l'otto di quadri. L'otto di quadri. Voilà. Non so dov'è. Ah, eccolo qua. Lotto qua. Certo. Penso che sia chiaro che è tutta un'altra cosa. Ma il metodo è identico. Cioè, sopra alla tua carta ci finisce una carta che io ho visto. Quindi, non è tanto il trucco che fa il gioco, ma come viene costruito. E quindi io spiegavo questa cosa, senza entrare troppo nel dettaglio. Però, avevo sempre avuto l'impressione che gli spettatori ai quali insegnavo l'effetto andassero via, come posso dire, dando più valore e prestigio proprio all'arte della prestigiazione. In questi due minuti. Poi, è lavorare sulle costruzioni dei giochi. In quello, per esempio, ce l'abbiamo qua di fianco, Design Miracles di Darwin Ortiz, che va a supporto di Stroke Magic, che è l'altro testo teorico. Che poi non sono teori, sono teorici pratici, di Darwin Ortiz. Si concentra esclusivamente su questo. Tutte le teorie spagnole si basano su questo. Cioè, vanno a lavorare su questa cosa. Cioè, vanno a lavorare su questo.